Il Rebound Air Education è il programma di base per educarsi alla corretta esecuzione degli esercizi di rimbalzo e per conoscere e familiarizzarsi con l'attrezzo, il Rebound Air. Con noi Cristiano Verducci che è il suo ideatore. Cristiano, buongiorno, mi fa piacere aversi tra noi. Prima di tutto potresti un po' spiegarci la storia del Rebound? Sì, allora l'attrezzo, il Rebound Air nasce in America e il suo pieniere è Alcarter sin dagli anni, quindi diciamo fine anni 70, per cui è stato l'unico che ha scoperto i benefici e i vantaggi di questa attività che si fa appunto con il Rebound Air che è l'attrezzo originale che appunto poi è stato prodotto e è stato continuamente sviluppato nel tempo. Quindi sin dagli anni 70 ad oggi ha avuto proprio una storia parallela rispetto alle attività fisiche che conosciamo. Infatti appunto il fitness è un'applicazione ma appunto il Rebound nasce nel campo della ricerca, della scienza proprio del rimbalzo, che è una vera scienza più salutistica che collegata all'allenamento. Chiaramente l'allenamento è una delle cose che si può fare con il Rebound ma non necessariamente solo quello. Allora, tutti i benefici di questo attrezzo? Guarda, elenco diciamo i vantaggi e quelli maggiori perché appunto i benefici sono veramente tanti ma la particolarità, l'unicità è che è un esercizio che va a stimolare ogni cellula del corpo per cui a questo punto non parliamo più di muscoli, di ossa, di pelle ma proprio il corpo è formato da miliardi di cellule per cui ogni cellula viene stimolata con questo movimento di rimbalzo per cui un esercizio, un unico esercizio, un unico attrezzo per tutto il corpo, davvero tutto, ogni cellula del corpo. Il Rebounder Education riguarda tutti i campi di formazione ed educazione, quale sono? Sì, Education per cui educazione, occorre appunto proprio educarsi a questa scienza sapendone appunto i benefici, i vantaggi e tutti i risvolti chiaramente più collegati all'aspetto salutistico che fitness però i campi di applicazione sono tanti, qui chiaramente il fitness che è la patria del movimento è uno dei suoi campi di applicazione ma appunto il Rebounder può essere applicato e l'abbiamo già prima presentato in ambito riabilitativo, in ambito terapeutico nelle scuole, nelle aziende, negli sport, in tutte le varie discipline sportive per cui veramente non c'è un limite nell'applicazione e neanche di età e di condizione per cui questa è veramente la straordinarietà di questa disciplina. Allora so che hai declinato questo attrezzo in varie tecniche, quale sono? Si parte da quella che io chiamo educazione che si fa in tutti gli ambiti di applicazione per appunto educarsi, iniziare a padroneggiare sia l'attrezzo che diciamo la tecnica, poi chiaramente c'è un percorso evolutivo dove oltre all'esercizio si va a fare un movimento che io chiamo più interno per cui invisibile in questo senso, è un rimbalzo che diventa più interno che esterno, quindi una persona inizia ad ascoltarsi maggiormente quindi l'evoluzione non è assolutamente l'ecrobazia nel Rebound ma è un lavoro sempre più interno per cui si inizia ad ascoltare il proprio respiro, a fare un lavoro anche con il respiro insieme al movimento e quindi un movimento invisibile, un movimento sempre più orientato allo sviluppo personale più che all'aspetto estetico esterno. Per i nostri telespettatori che vorrebbero anche da casa divertirsi con questo attrezzo quanto può costare? E ce ne sono molti, nel senso che noi abbiamo molti più clienti a casa che nelle palestre, no tutto si sta sviluppando velocemente, ne siamo grati, però abbiamo tantissimi clienti a casa già di tutte le età, di tutte le condizioni, proprio sta diventando la palestra familiare dove tutti i bambini, i genitori, i nonni si ritrovano a fare, noi abbiamo un DVD per cui non è necessaria la guida di un istruttore esperto, in questo DVD può essere seguito tranquillamente a casa, il costo è di 300 euro, cioè con 300 euro una persona può allenarsi a casa comodamente per sempre. Ma mi sembra una cosa che potrà divertire i piccoli e i grandi e anche ovviamente i nostri amici del fitness, grazie mille Cristiano, ci troviamo fra poco a Rimini, sempre qui a Rimini Wellness sullo stand del Rebounder. Grazie a voi, ricordo il motto, allenate di essere felice. Oggi abbiamo un partner di eccezione che è Rebound, marchio originale, con un responsabile Cristiano. Cristiano, cosa ci racconti di questo prodotto? Prodotto e servizio, nel senso che noi ci occupiamo sia di distribuire in esclusiva in Italia da dieci anni oramai l'attrezzo originale americano del pioniere, si chiama Al Carter, quindi l'azienda americana Rebounder e in Italia noi chiaramente adesso dopo dieci anni abbiamo maturato un know-how di esperienza e di risultati, la cosa più interessante è a 360 gradi, quindi l'applicazione non è soltanto collegata al movimento inteso come forma fisica, in questo senso essere in forma, che non equivale come sapete a essere anche in salute. Per cui il Rebounder nasce nel settore della salute, per cui è importante riconoscerlo soprattutto per quello che è il proprio valore e significa quindi quando ci occupiamo di salute ci occupiamo a tutto tutto, quindi di noi e quindi da parte sia fisica e quindi è inclusa diciamo la parte fisica nella salute. E quali sono i vantaggi principali dell'utilizzo di questo strumento? Tantissimi, cioè uno strumento per la salute, per cui l'innovazione al di là della novità è proprio di iniziare innanzitutto a concepire il corpo come un insieme, un'unità, no? E quindi questo fa lavorare ogni cellula del corpo singolarmente, cioè ogni cellula viene stimolata e migliorata, a quel punto ogni cellula ha una funzione e migliora quindi la sua funzione di conseguenza, è come se andiamo proprio a monte a lavorare sul corpo, non lavoriamo sui muscoli ma sulle cellule, che poi sono fatti i muscoli di cellule, no? Quindi io non lavoro solo sui muscoli, a questo punto lavoro e miglioro ogni funzione del corpo, per cui i benefici sono la conseguenza di questo lavoro, per cui il miglioramento è anche addirittura il tono muscolare, il dimagrimento per effetto soprattutto del sistema linfatico, perché lavora molto sul sistema linfatico, che è proprio il sistema principale che va a eliminare. Ecco, il lavoro principale, interessante dirlo, è più, paradossalmente, è proprio di eliminare più che aggiungere, la maggior parte degli esercizi lavorano in aggiungere, no? Metto peso, il carico, eccetera. Qui paradossalmente diciamo, ma è possibile che io posso stare meglio e dimagrisco, io ho tutti, ma anzi, maggiori anche benefici, eliminando, è interessante quindi andare in questa direzione, che poi è anche la disontificazione, quello che è il drenaggio, quindi l'educazione che significa togliere più che aggiungere nozioni, cioè tutto, ecco quello che noi chiamiamo educazione e esercizi di rimbalzo. La persona si deve educare a lasciare andare il corpo, liberarsi di tante anche concezioni collegate all'attività fisica, devo sudare, devo massacrarmi di esercizi, non è così, è proprio un capovolgimento in questo senso, devi imparare a rilassarti, stare su e goderti il movimento per la salute. Un concetto assolutamente innovativo, innovativo come evolution è innovarsi, ispirarsi ed evolversi, non a caso siete i nostri partner principali. Dove è possibile trovare sul mercato l'attrezzo rebound? Exclusivamente su internet, perché siamo distributori esclusivi e quindi vendita diretta tramite internet, lo ordini su internet e quindi arriva a casa comodamente. Vuoi lasciarci un sito di riferimento? Certo, che poi è anche un sito di informazione, che noi nasciamo e sappiamo quanto è importante innanzitutto informare su questo aspetto, informare in maniera anche neutra, cioè spiegando a come diciamo oggi, parlando più non dell'attrezzo in sé che è la vendita dell'attrezzo, ma proprio del valore di questa attività a cui ci teniamo particolarmente, insomma siamo esperti specialisti di questo, per cui non improvvisatevi con persone che non sanno che cos'è e mettervi lì a fare, va bene come giocare, va bene anche giocare ogni tanto, però è un'attività seria e importante, per cui è importante prendere l'attrezzo originale di qualità ed affidarsi a persone esperte che vi educano a come ottenere il massimo da questa cosa. Allora a quel punto il valore si comprende a 360 gradi e diventa interessante perché una persona nel tempo capisce che veramente è una cosa straordinaria in questo senso, per cui su internet il sito si chiama creamore.it. Creamore.it. Perfetto, grazie infinite Cristian. Lo stato di salute del fitness in generale in Italia diciamo che sta vivendo un rinnovamento perché il fitness nasce da tantissimi anni fa e ha avuto un suo percorso, noi credo siamo riusciti adesso a interpretarlo, dato che io insomma mi occupo di fitness da più di vent'anni, quindi ho iniziato proprio, quindi so la storia del fitness, da come è nato, a come si è sviluppato e come si è evoluto, non mi piace, mi è sviluppato, quindi ad oggi quindi la Wisp, che ha sempre avuto questo settore, ha voluto iniziare a dare un'impostazione di… non accontentandosi semplicemente di fare attività, ma di essere quasi promotori di un nuovo modo di fare, un nuovo modo, comunque un modo più sano, in questo senso è parlato di salute, per cui far introdurre il concetto salutistico dentro al fitness, quindi non semplicemente attività collegata all'aspetto della forma fisica, ma già attraverso questo lavorare contemporaneamente sull'aspetto della salute e del benessere e quindi un fitness più salutare è per tutti in questo senso, quindi significa che se è per tutti, significa che bisogna dare l'opportunità a tutti di poterlo praticare, quindi di praticarlo nella semplicità e nella facilità. C'è una caratteristica del fitness Wisp? Sì, la caratteristica è proprio il nostro, quasi sembra slogan e motto, cioè semplicemente abbiamo detto, quindi è racchiuso già tutto dentro e non è soltanto una parola, poi bisogna far sì che questo sia applicato in tutte le attività che si fa e questo già è una bella sfida, perché vogliamo che poi far crescere anche il livello da istruttori a educatori, per cui c'è proprio un passaggio di responsabilità dove l'istruttore deve capire che nel momento in cui si occupa di salute e non solo di attività e movimento per la forma fisica, deve fare un passo ulteriore che è quello di rendere l'attività semplice alla portata di tutti, questa è la chiave proprio di lettura e la caratteristica peculiare del fitness Wisp da adesso, da quando abbiamo ricominciato e rinnovato. Parlavi di sviluppo dell'area fitness, cosa racchiude la Wisp? Quali elementi nuovi proponete? Sì, elementi nuovi, ci siamo ritornando al discorso di semplicità che è rivoluzionario secondo me, perché è già solo la parola, poi la Wisp si occupa e lavora con tutti i target dai bambini agli adulti e agli anziani, per cui a maggior ragione questo deve essere steso a tutti, riuscire veramente a fare un'attività per tutti è una sfida grandissima e quindi nel fitness idem, un'altra credo importante cosa sia proprio la trasversalità, riuscire all'interno di Wisp a coinvolgere tutti in questo lavoro, che non è soltanto il nostro settore, quindi non ci sentiamo appartenere solo al settore fitness, ci sentiamo appartenere alla Wisp, per cui la Wisp, dal livello parlo di formazione, educazione, metodologia didattica, le metodologie devono essere secondo me molto trasversali, di modo che c'è un'interazione e anche uno sviluppo in questo senso, perché si può prendere da altre attività, per cui lo sviluppo nasce nel momento in cui si interagisce maggiormente, si creano quindi delle cose anche nuove, innovative in questo senso. Grazie a tutti.